What's up a tutti pandini e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo video effettivamente non sarà un video da come avete potuto capire dal titolo ma vi dovevo una piccolissima spiegazione chiaramente innanzitutto buona immacolata ragazzi adesso sì che davvero si comincia a respirare l'aria natalizia ed è per questo che oggi ragazzi volevo incominciare questa lettura insieme a voi è una cosa che volevo fare effettivamente da un bel po' di tempo sul mio canale so perfettamente che probabilmente in pochissimi ascolteranno questa lettura ma davvero ci tenevo ragazzi perché Canto di Natale di Dickens a me è piaciuto sempre veramente da morire e adoro il messaggio comunque anche perché tra l'altro adoro il modo in cui Dickens scrive per cui ci tenevo davvero tantissimo a leggere questo libro insieme a voi ovviamente non sarà una lettura unica perché il libro è diviso in capitoli per cui ogni capitolo avrà un video una lettura a sé dedicata chiaramente non so ragazzi se volete comunque sostenere questa cosa con un bel pollice in su magari per avere ovviamente il capitolo successivo potremmo comunque come al solito cercare di raggiungere una certa soglia di like quindi magari non so per il capitolo 2 magari potremmo cercare di raggiungere i 30 e 40 like quindi giusto così ragazzi veramente a livello simbolico quindi io ringrazio veramente di cuore chiunque vorrà fare insomma questa lettura insieme a me o perlomeno ascoltare ecco questa lettura con me spero che questa lettura chiaramente vi piaccia mi rendo conto che è un qualcosa che è comunque molto di nicchia per cui ringrazio veramente di cuore in anticipo chiunque dovesse comunque voler ascoltare questa storia ancora buon 8 dicembre ragazzi buon ascolto marley era morto tanto per cominciare non c'era dubbio su ciò il suo atto di morte era firmato dal pastore dal coadiutore dall'uomo delle pompe funebri e dal capo dei piagnoni l'aveva firmato anche scrooge e il nome di scrooge alla borsa degli scambi valeva per qualsiasi cosa a cui egli decidesse di mettere mano il vecchio marley era morto come il chiodo di un uscio badate non voglio dire di sapere per mia personale esperienza che ci sia qualcosa di particolarmente morto nel chiodo di un uscio sarei anzi tentato io stesso di considerare piuttosto un chiodo da bara come il più defunto pezzo di ferro manufatto che esista sul mercato ma nella similitudine c'è la saggezza dei nostri anziani e la mia mano profana non può cambiarla né il paese lo ha mai fatto dovete quindi permettere che io ripeta fragorosamente che marley era morto come il chiodo di un uscio sapeva scrooge che marley era morto naturalmente come avrebbe potuto essere altrimenti scrooge e il morto erano soci non so da quanti anni scrooge era il suo solo esecutore testamentario il suo solo amministratore il suo solo curatore il suo solo erede il solo che ne prendesse il lutto ma scrooge non si lasciò abbattere dal triste evento al punto di non poter continuare a essere un eccellente uomo d'affari e di non solenizzare con un vantaggioso contratto il giorno stesso dei funerali l'aver menzionato i funerali di marley mi riporta indietro al punto di partenza non c'era dubbio dunque che marley fosse morto questo deve essere chiaramente inteso altrimenti nulla di straordinario ci sarebbe nella storia che sto per riferire se non si fosse perfettamente convinti che il padre di amleto è morto prima che la rappresentazione cominci non ci sarebbe niente di straordinario in quella sua passeggiatina in una notte tutta vento di levante sopra i baluardi del suo castello niente di più straordinario di quanto ci sia nella passeggiata imprudente di qualche gentiluomo di mezz'età di notte in un qualunque luogo ventoso diciamo per esempio il cimitero di san paolo semplicemente per far colpo sulla debole mente del proprio figlio scrooge non cancellò mai il nome del vecchio marley esso rimase lì per anni sopra la porta del magazzino scrooge e marley la ditta era infatti conosciuta così scrooge e marley e qualche volta gente nuova agli affari chiamava scrooge scrooge e qualche altra marley ma egli rispondeva in qualunque modo gli rivolgessero la parola per lui era la stessa cosa ah ma con che pugno di ferro scrooge teneva il timone e come sapeva spremere torcere afferrare grattare ammassare strappare da quel vecchio avido peccatore che era duro e acuto come una selce dalla quale non c'era acciaio che riuscisse a far sprizzare una scintilla di generosità chiuso controllato e solitario come un'ostrica il freddo che aveva dentro gli gelava il viso gli affilava il naso appuntito gli raggrinziva le gote ne induriva l'andatura gli arrossava gli occhi una brina ghiacciata li copriva capo sopracciglia e mento legnoso ed egli portava sempre in giro con sé quella sua bassa temperatura che gelava il suo ufficio anche nei giorni di canicola e non saliva sia pure di un grado neanche al tempo di natale caldo o freddo esterno avevano ben poca influenza su scrooge non calore estiva lo riscaldava non rigore d'inverno poteva renderlo più freddo nessun vento turbinoso era più aspro di lui nessuna neve intormenta più costante nei suoi propositi nessuna pioggia insistente meno condiscendente alle suppliche il tempo più orribile non lo toccava la pioggia più fitta, la neve, la grande e nella brina potevano vantare qualche supremazia sopra di lui solo in un campo qualche volta esse scendevano ben bene ma Scrooge mai nessuno lo fermava per la strada per dirgli con viso affettuoso caro Scrooge come sta? quando verrà a trovarmi? nessun mendicante pregava Scrooge di elargirgli qualcosa nessun ragazzo gli domandava allora nessun uomo, nessuna donna in tutta la sua vita gli si era mai rivolto per chiedergli la strada per questo o per quel posto perfino i cani dei ciechi sembravano conoscerlo e quando lo vedevano giungere trascinavano i loro padroni nei portoni e nelle corti e scodinzolavano quasi a dire padron buio, meglio non avere occhio che avere il malocchio ma Scrooge che importava? erano cose che gli piacevano anzi fabbricarsi la strada lungo gli affollati sentieri della vita ammonendo ogni umana simpatia di tenersi a distanza e scartando tutto ciò che chi la s'allunga secondo Scrooge chiama sciocchezze, era quello che gli piaceva un giorno, il migliore dei più beggiorni dell'anno, la vigilia di Natale il vecchio Scrooge stava lavorando nel suo ufficio faceva freddo, l'atmosfera livida e tagliente volgeva verso la nebbia egli udiva la gente, lei in basso nel cortile correre su e giù e picchiarsi il petto con le mani e battere i piedi sul selciato per riscaldarsi gli orologi stradali avevano appena abbattuto le tre ma faceva già buio non c'era stata luce durante l'intera giornata le fiamme delle candele che si intravedevano dietro le finestre degli uffici vicini sembravano rosse frittelle sulla densa aria bruna la nebbia penetrava da ogni fessura, da ogni buco di serratura ed era tanto fitta che per quanto la corte fosse strettissima le case di fronte apparivano come fantasmi vedendo calare sempre più basse le nuvole nere che oscuravano ogni cosa si sarebbe potuto pensare che il creato fosse quel giorno veramente di cattivo umore e tra massi infami e senza fine la porta dell'ufficio di Scrooge era aperta ed egli poteva così tener d'occhio l'impiegato che di fronte in un miserevole sgabuzzino o un vero buco stava copiando lettere Scrooge aveva acceso nel suo cammino un fuoco piccolissimo ma il fuoco dell'impiegato era tanto più piccino da sembrare un tizzone né egli poteva aggiungerci carbone perché il secchio lo teneva a Scrooge nella sua stanza e appena l'impiegato entrava con la pala per prenderne un po' il padrone gli prediceva che avrebbe finito per mandarlo via ragion per cui l'impiegato si era avvolto in una sciarpa bianca e cercava di riscaldarsi alla fiamma della candela ma non essendo uomo di molta immaginazione i tentativi rimanevano vani «Lieto Natale, zio! Dio sia con te!» gridò l'allegra voce di un nipote di Scrooge il quale gli arrivò addosso così rapidamente che l'augurio l'aveva preceduto di poco «Bah!» fece Scrooge «Sciocchezze!» il nipote si era tanto riscaldato camminando rapidamente nella nebbia e nel gelo che sembrava tutto acceso la faccia era bella rossa gli occhi gli brillavano il fiato fumava ancora «Sciocchezze Natale, zio?» chiese il nipote «Non vorrei di certo dir questo?» «Sì che lo dico!» ribatte Scrooge «Lieto Natale! Che diritto hai tu di essere lieto? Che ragione hai di essere lieto? Non sei abbastanza povero?» «Via!» rimbeccò gaiamente il nipote «E che diritto hai tu di essere scontento? Che ragione hai di essere di cattivo umore? Non sei abbastanza ricco?» Scrooge non avendo una risposta migliore fece «Bah!» di nuovo e aggiunse un altro «Sciocchezze!» «Non essere in collera, zio!» disse il nipote «E che altro posso essere?» replicò lo zio «Dovendo vivere in un mondo di idioti come questo!» «Lieto Natale! Basta con il lieto Natale! Che cos'è in fin dei conti la ricorrenza di Natale se non il giorno di pagare conti senza aver soldi in tasca il giorno in cui ti trovi di un anno più vecchio senza essere di un'ora più ricco il giorno di fare il bilancio e di notare come ogni partita durante i dodici mesi sia stata un deficit se potessi fare come dico io!» esclamò infine con indignazione «Ogni idiota che vengiro con il lieto Natale sulle labbra dovrebbe venire bollito nel suo stesso pudding e sepolto con un rametto di agrifoglio sul cuore questo vorrei!» «Zio!» implorò il nipote «Nipote!» replicò severamente lo zio «Festeggia pure il Natale alla tua maniera ma lascia che io lo festeggi alla mia!» «Festeggiarlo!» rispose il nipote «Ma tu non lo festeggi per niente!» «Lasciami in pace allora e possa Natale portarti un mucchio di bene proprio come te ne ha portato finora!» «Molte sono le cose dalle quali avrei potuto trarre del bene e invece non ho saputo approfittarne è vero» rispose il nipote «Il Natale è una di quelle!» «Ma sono sicura di aver sempre pensato al Natale quando si avvicina come un giorno felice a parte la venerazione dovuta alla sua sacra origine anche se di ciò si può non tener conto un giorno di allegria, di bontà di gentilezza, di indulgenza, di carità l'unico momento nel lungo corso dell'anno nel quale uomini e donne sembrano disposti ad aprire liberamente il proprio cuore disposti a pensare ai loro inferiori non come a creature di un'altra specie destinato a un altro cammino ma come a compagni di viaggio del medesimo viaggio verso la morte e perciò zio benché non abbia mai portato una briciola di oro o di argento nelle mie tasche credo che Natale mi abbia sempre fatto del bene e sempre me ne farà dico dunque sia benedetto involontariamente dal suo buco l'impiegato applaudì ma rendendosi subito conto di essersi reso colpevole di indiscrezione si diede ad attizzare il fuoco spegnendone così definitivamente le ultime deboli braci che senta un'altra parola da te disse Scrooge e festeggerai il Natale perdendo il tuo posto sei davvero un formidabile oratore mio caro aggiunse rivolgendosi al nipote mi meraviglio che tu non sei ancora entrato in parlamento non essere in collera zio andiamo vieni a pranzo da noi domani Scrooge rispose che prima ma sì lo disse chiaro e tondo che prima lo avrebbero visto morto ma perché esclamò il nipote ma perché e perché tu ti sei sposato disse Scrooge perché mi sono innamorato perché ti sei innamorato grugnì Scrooge come se ciò fosse dopo il lieto Natale la cosa più ridicola del mondo buonasera senti zio anche prima che ciò accadesse tu non sei mai venuto da me perché te ne servi come pretesto per non venire adesso buonasera disse Scrooge non voglio niente da te non ti chiedo niente perché non possiamo essere amici buonasera disse Scrooge mi dispiace dal profondo del cuore di vederti così risoluto non c'è stata mai nessuna lite che io sappia fra noi ho fatto questo tentativo per onorare il Natale e manterrò fino in fondo le mie buone disposizioni natalizie perciò lieto Natale zio buonasera disse Scrooge e felice anno buonasera disse Scrooge nonostante questo il nipote lasciò la stanza senza una parola risentita si fermò fuori dall'uscio per fare gli auguri di circostanza anche all'impiegato il quale gelato com'era era meno freddo di Scrooge e li ricambiò cordialmente ecco un altro bel tipo brontò lo Scrooge che lo aveva sentito il mio impiegato con quindici scellini la settimana una moglie e una famiglia da mantenere parla di lieto Natale cose da pazzi quello squilibrato mentre faceva uscire il nipote di Scrooge aveva introdotto due altre persone si trattava di due imponenti gentiluomini dall'aspetto simpatico che ora stavano a testa scoperta nell'ufficio di Scrooge avevano in mano libri e carte e lo salutarono con un inchino Scrooge e Marley se non sbaglio disse uno di loro dopo aver consultato un elenco ho il piacere di parlare al signor Scrooge o al signor Marley il signor Marley è morto da sette anni rispose Scrooge è morto sette anni or sono questa stessa notte siamo certi che la sua generosità è ben rappresentata dal socio sopravvissuto disse il gentiluomo presentando le sue credenziali ed era proprio così già che Scrooge e Marley erano stati due spiriti gemelli alla malaugurata parola generosità Scrooge aggrottò le sopracciglia scosse la testa e restituì le credenziali in questi giorni di Letizia signor Scrooge disse il gentiluomo prendendo una penna è più desiderabile del solito pensare a qualche provvidenza per i poveri ed i relitti che soffrono molto nel presente periodo migliaia di persone mancano del necessario centinaia di migliaia di persone del più piccolo conforto signore e non ci sono le prigioni chiese Scrooge prigioni quante se ne vuole disse il gentiluomo posando di nuovo la penna e gli ospizi di mendicità chiese Scrooge ci sono ancora? ci sono ancora rispose il gentiluomo vorrei poter dire che non ci sono più la legge penale e la legge sui poveri sono ancora in vigore? disse Scrooge in pieno vigore signore oh da quel che avete detto prima temevo che qualcosa fosse venuto a intralciare il loro utilissimo funzionamento disse Scrooge sono felice di udire il contrario avendo l'impressione che queste istituzioni facciano ben poco per rallegrare spiriti e corpi della folla in occasione del Natale replicò il gentiluomo qualcuno di noi ha pensato di raccogliere fondi per offrire i poveri cibi e bevande e combustibili abbiamo scelto questa stagione perché fra tutte le altre è quella in cui il bisogno si fa particolarmente sentire mentre chi è nell'abbondanza fa festa perché cifra posso iscrivervi signore? per niente rispose Scrooge desiderate rimanere anonimo? desidero essere lasciato in pace disse Scrooge visto che me lo chiedete signori questa è la mia risposta io stesso non festeggio il Natale non posso permettermi il lusso di farlo festeggiare a dei fannulloni do il mio aiuto alle istituzioni che ho menzionato ed esse mi costano già abbastanza chi è nella miseria può rivolgersi lì molti non possono andarci e molti preferirebbero piuttosto morire se preferiscono morire fece Scrooge meglio lo facciano in fretta per diminuire la sovrabbondanza della popolazione e poi queste cose non mi interessano dovrebbero interessarvi osservò il gentiluomo non è affar mio rispose Scrooge è sufficiente occuparsi dei propri affari senza immischiarsi in quelli degli altri e i miei mi tengono occupato di continuo buonasera signori avendo capito che era inutile insistere i due gentiluomini si ritirarono Scrooge tornò a immergersi nel suo lavoro con una più alta opinione di se stesso e con un umore più gaio del solito intanto la nebbia e il buio si erano fatti così fitti che qualcuno andava attorno con torci accese offrendosi di precedere i cavalli delle carrozze e di guidarli lungo la strada la vecchia torre della chiesa la cui arcigna vecchia campana fissava sempre con curiosità Scrooge da una finestra gotica aperta nel muro divenne invisibile e batte fra le nuvole le ore e i quarti con rintocchi prolungati e tremoli come se lassù le crocchiassero i denti nella testa gelata il freddo si fece intenso nella strada principale all'angolo del vicolo alcuni operai stavano riparando i tubi del gas e avevano acceso un gran fuoco in un bracere tutto intorno si era riunito un gruppo di uomini e di ragazzi cenciosi che si scaldavano le mani e socchiudevano gli occhi davanti alla fiamma felici la fontanella lasciata la sua solitudine era congelata e l'acqua dilagata intorno si era trasformata in un lastrone di ghiaccio misantropo le luci dei negozi nei quali rami di agrifoglio e bacche rosse scricchiolavano al calore delle lampade e delle vetrine colorivano di porpora le pallide facce dei passanti le botteghe dei pollivendoli e dei droghieri erano diventate così accoglienti così gaiamente decorativi e da sembrare impossibile che fossero legati ai noiosi canoni della vendita e delle contrattazioni il lord mayor nella fortezza della grandiosa mansion house dava ordine ai suoi 50 cuochi e domestici perché il natale fosse festeggiato come si conveniva alla dimora di un lord mayor e perfino il piccolo sarto che era stato multato da lui di 5 scellini lunedì precedente per essere stato sorpreso in strada ubriaco e turbolento si dava da fare nel suo tugurio per preparare il misero pudding dell'indomani mentre la sua magra moglie e il bimbo facevano un salto a comprare l'arrosto faceva sempre più freddo la nebbia infittiva un freddo che penetrava mordeva tagliava se il buon sandustano invece di usare le sue pinze d'orefice si fosse limitato a pizzicare il naso del diavolo con un tempaccio simile allora sì che il maligno avrebbe urlato e ha ragione il proprietario di un naso giovane e corto che il freddo affamato morsicava e stritolava e masticava come le ossa sono stritolate dei cani si fermò alla toppa della porta di scruge per fargli il dono di un canto di natale ma al primo accenno di scruge afferrò un righello con tanta energia che il cantante fuggì atterrito abbandonando la toppa alla nebbia e al gelo che bene certo le si addicevano finalmente arrivò l'ora di chiudere l'ufficio scruge scese di pessimo umore dal suo sgabello quasi a dare un tacito segnale all'impiegato che nel suo sgabuzzino lo aspettava ansiosamente in che in tutta fretta soffiò sulla candela e si mise in testa il cappello immagino che vorrà avere libertà tutto il giorno domani disse scruge se non disturba troppo signore disturba sì disse scruge e poi non è giusto scommetto che se le trattenessi mezza corona dallo stipendio lei si riterrebbe defraudato no l'impiegato abbozzò un sorriso eppure disse scruge lei non crede di defraudare me facendomi pagare un giorno di stipendio senza lavorare l'impiegato osservò che ciò capitava una sola volta all'anno bella scusa per vuotare le tasche del prossimo ogni 25 dicembre fece scruge abbottonando fino al mento il suo pesante cappotto ma temo proprio di doverle dare tutta la giornata di domani sia almeno qui presto dopo domani mattina l'impiegato promise e scruge uscì con un grugnito l'ufficio fu chiuso in un battibaleno e l'impiegato con le lughe code della sua sciarpa bianca che gli pendevano fino alle falde della giacca già che egli non poteva permettersi di possedere un cappotto si fece una ventina di belle scivolate in onore della vigilia di natale giù dalla collina di cornhill insieme con una fila di ragazzi poi si lanciò verso casa sua a camden town quando più presto poteva per giocare una partita mosca cieca scruge consuma il suo malanconico desinare nella sua solita melanconica taverna e dopo aver letto tutti i giornali e passato il resto della serata a controllare il suo conto in banca se ne andò a casa a dormire viveva nell'appartamento che era stato di proprietà del suo defunto socio una buia sfilata di camere in un edificio alto in fondo o un vicolo dove aveva ben poca ragione di trovarsi così che era difficile impedirsi di immaginare che fosse corso lì quando era una giovane casa giocando a nasconderella con altre case e non avesse più trovato la via per andarsene era abbastanza vecchio adesso e abbastanza lugubre nessuno ci viveva più all'infuori di scrooge perché tutti gli altri locali erano affittati come uffici il cortile era così buio che perfino scrooge che lo conosceva pietra per pietra fu costretto a cercare la strada a tentoni nebbia e brina assediavano l'androne della casa in maniera tale da far pensare che il genio stesso del freddo sedesse sulla sua soglia in cupa meditazione è certo che non c'era niente di particolare nel batacchio del portone a parte il fatto che era molto grande è certo anche che scrooge aveva visto quel batacchio ogni sera ogni mattina da quando abitava lì e che egli possedeva fantasia quanto ne può possedere qualunque uomo della city di londra includendovi il che dir molto tutta la corporazione i magistrati e i notabili tenete ben presente che scrooge non aveva rivolto quel giorno un solo pensiero a marley se si toglie l'accenno fatto quel pomeriggio a suo socio morto ormai da sette anni e poi qualcuno mi spieghi se lo può come fu che scrooge dopo aver infilato la chiave nella serratura dell'uscio vide nel batacchio senza che questo subisse il benché minimo mutamento intermedio non più un batacchio ma il viso di marley il viso di marley non era immerso nella più impenetrabile oscurità come tutto quello che si trovava nella corte ma emanava una sorta di luce cupa come una ragosta andata a male nel buio di una cantina non aveva aspetto cattivo né feroce ma guardava scrooge come marley usava guardarlo con occhiali spettrali rialzati sulla fronte spettrale i capelli erano curiosamente sollevati come da una brezza o da un soffio d'aria calda e gli occhi benché spalancati erano perfettamente immoti tutto ciò e il livido colorito lo rendevano orribile ma quell'orrore più che insito nell'espressione sembrava vivere di per sé stesso a dispetto di quel viso e di là dal suo controllo mentre scrooge fissava attentamente quel fenomeno ecco che il viso tornò ad essere di nuovo un batacchio dire che egli non rimanesse stupito che il suo sangue non si raggelasse in una terribile sensazione di paura quale dall'infanzia non aveva più provato significherebbe dire una cosa non vera ma egli riprese la chiave che aveva lasciato la girò in fretta entrò e accese la sua candela si fermò un poco incerto prima di chiudere la porta poi vi guardò dal di dentro quasi si aspettasse di vedere il codino della parrucca di Marley protendersi verso l'atrio ma non c'era nulla sul retro della porta salvo le viti e i cavicchi che vi inchiodavano il batacchio così brontolò via via e la richiuse violentemente il rumore risuonò come un tuono per tutta la casa ogni stanza dei piani superiori ogni barile nella sottostante cantina del vinaio sembro avere una sua separata e caratteristica serie di echi scruggio non era un uomo da spaventarsi per gli echi assicurò l'uscio traversò l'ingresso e infilò le scale lentamente per giunta smoccolando la candela mentre saliva si accenna a volte a scale tanto larghe o una nuova malformulata legge parlamentare attraverso cui si può passare con un tiro a sei ma vi assicuro che sulla scala di scrooge avreste potuto salirci con un carro funebre e metterlo di traverso col timone verso il muro e il retro verso la balaustra ci sarebbe stato c'era spazio più che sufficiente e ancora ne avanzava per questo forse scrooge credette di vedere un carro funebre salire davanti a lui nell'ombra mezza dozzina di lampade a gas come illuminazione stradale non sarebbero bastate a far luce nell'atrio potete immaginare che razza di buio vi era con l'ucignolo di scrooge ma scrooge senza curarsi minimamente di ciò continuava a salire il buio costa poco e per questo gli piaceva tuttavia prima di chiudere la pesante porta girò ogni camera per accertarsi che tutto fosse a posto era motivo sufficiente per spingerlo a questa ispezione in ricordo del viso sul batacchio salotto camera da letto ripostiglio tutto come doveva essere nessuno sotto la tavola nessuno sotto il sofà un piccolo fuoco sulla griglia cucchiaio e bacinella pronti e un pentolino di brodo scrooge era raffreddato appeso alla catena del camino nessuno sotto il letto nessuno nel camerino nessuno dentro la sua veste da camera appesa al muro in atteggiamento sospetto nel ripostiglio vecchi parafuochi scarpe vecchie due cestini da pesca un lavabo su treppiede un attizzatoio pienamente rassicurato chiuse la porta a doppia mandata cosa che non era nelle sue abitudini messo così assicuro da ogni sorpresa si levò la cravatta indossò la veste da camera le pantofole e la berretta da notte e si erette davanti al fuoco per bere la sua tisana era davvero un misero fuoco quello una cosa da nulla per una notte tanto rigida egli fu costretto a sedercisi molto vicino quasi a cavallo prima di estrarre una minima sensazione di calore da una così grama manciatina di combustibile il cammino era vecchio costruito molto tempo addietro da qualche mercante olandese che lo aveva foderato tutto intorno con strane piastrelle olandesi decorate la scena della Bibbia c'erano Caini e Abeli figlie di Faraoni regine di Saba angelici messaggeri aleggianti su nuvole simili a materassi di piuma Abrami Baldassarri apostoli che navigavano su barche di burro centinaia di immagini insomma capaci di distrarre il suo pensiero eppure il viso di Marley morto da sette anni faceva scomparire tutto il resto come la bacchetta dell'antico profeta se ogni liscia piastrella fosse stata all'inizio bianca col potere di riprodurre sulla sua superficie qualche disegno con gli scarsi frammenti del pensiero di Scrooge in ognuna di esse ci sarebbe stata una copia della testa del vecchio Marley sciocchezze disse Scrooge e cominciò a passeggiare su e giù per la stanza dopo aver fatto un paio di giri tornò a sedersi come appoggiò la testa allo schienale della poltrona il suo sguardo si posò per caso sul campanello un campanello fuori uso che pendeva nella stanza e comunicava per uno scopo ormai dimenticato con una camera dell'ultimo piano dell'edificio con grande stupore e spiegabile paura mentre lo stava guardando notò che il campanello cominciava a muoversi si muoveva così piano da principio che quasi non si sentiva suono ma presto trillò forte imitato da tutti gli altri campanelli della casa ciò durò un minuto forse ma sembrò un'ora i campanelli smisero come avevano cominciato tutti insieme fece loro seguito un suono metallico e profondo come se qualcuno trascinasse una pesante catena sopra le botti nella cantina del mercante divino Scrooge ricordò di aver sentito dire che i fantasmi delle case stregate usano trascinarsi dietro delle catene la porta della cantina si spalancò con fracasso terrificante e allora egli sentì il rumore farsi più forte a pian terreno poi salire le scale e venire verso l'uscio ancora sciocchezze disse Scrooge non ci credo però il suo colorito cambiò quando senza una pausa lo spettro passò attraverso il pesante uscio ed entrò nella stanza davanti ai suoi occhi al suo ingresso il morente fuoco ebbe un ultimo guizzo quasi a dire lo conosco è il fantasma di Marley poi ricadde di nuovo la medesima faccia proprio la stessa Marley col suo codino il suo solito panciotto la sua giacca a code calzoni a mezza gamba e stivali i cui fiocchi di seta addondolavano a tempo con il codino le falde della giacca e i capelli la catena che egli trascinava lo cingeva a mezzo corpo era lunga si avvolgeva intorno a lui come una coda ed era composta Scrooge la esaminò da vicino di cassette di sicurezza chiavi lucchetti libri mastri documenti legali e pesanti borse d'acciaio il corpo era così trasparente che Scrooge osservandolo vide attraverso il panciotto i due bottoni che ornavano dietro la giacca Scrooge aveva sovente sentito dire che Marley era un uomo senza viscere ma fino a quel momento non lo aveva creduto no non ci credeva neppure ora benché il suo sguardo potesse trapassare da parte a parte lo spettro che gli stava davanti benché sentisse il raggelante influsso di quegli occhi morti e potesse persino esaminare il tessuto del fazzoletto che gli avvolgeva a testa e mento particolare che prima non aveva notato si sentiva incredulo e lottava contro la testimonianza dei suoi stessi sensi bene fece Scrooge caustico e freddo come sempre cosa vuoi da me molte cose era la voce di Marley nessun dubbio su ciò chi sei domandami chi sono stato chi sei stato allora disse Scrooge alzando la voce sei pignolo per essere un'ombra stava per dire all'ombra ma cambiò la frase per renderla più appropriata in vita sono stato il tuo socio Jacob Marley puoi puoi sederti domandò Scrooge guardandolo con aria dubbiosa lo posso siediti allora Scrooge aveva fatto la domanda perché non sapeva se un fantasma così trasparente fosse nella condizione di potersi servire di una sedia e sentiva che nell'eventualità che la cosa non fosse possibile ciò avrebbe reso necessaria una penosa spiegazione ma il fantasma andò a sedersi sul lato opposto del camino come se si trattasse di cosa per lui abituale tu non credi in me notò il fantasma no disse Scrooge che prova vuoi della mia realtà oltre quella dei tuoi sensi non so disse Scrooge perché dubiti dei tuoi sensi perché rispose Scrooge un non nulla basta atturbarli un piccolo imbarazzo di stomaco può renderli ingannevoli tu potresti essere un'indigestione di manzo una cucchiaiata di mostarda una fetta di formaggio un pezzo di patata cruda chiunque tu sia c'è in te più del sugo di carne che della tomba Scrooge non aveva l'abitudine di far motti di spirito né sentiva certo la voglia di scherzare la verità era che cercava di mostrarsi disinvolto per distrarre i suoi pensieri per tenere a freno il proprio terrore perché la voce dello spettro lo faceva tremare fino al midollo delle ossa se fosse rimasto seduto a fissare quei ghiacciati occhi immoti anche per un solo momento si sarebbe presto trovato a mal partito lo sapeva vi era inoltre qualcosa di veramente orribile nell'atmosfera infernale che circondava il fantasma anche se Scrooge non lo percepiva personalmente essa non era per questo meno reale benché il fantasma sedesse immobile i suoi capelli le sue vesti i suoi fiocchi i suoi nastri erano in continuo movimento quasi fossero agitati dal caldo vapore di un forno vedi questo stuzzicadenti disse Scrooge tornando alla carica per le ragioni sopraddette nella speranza di riuscire fosse solo per un momento a distogliere da sé quello sguardo agghiacciante si rispose il fantasma ma se non lo guardi nemmeno fece Scrooge eppure lo vedo ribatte il fantasma beh rispose Scrooge basterebbe che lo inghiottissi e per il resto dei miei giorni sarei perseguitato da legioni di demoni di mia propria creazione sciocchezze ti dico sciocchezze a queste parole lo spirito emise uno spaventoso urlo e scosse le sue catene con un rumore così funebre e macabro che Scrooge si aggrappò alla sedia per non cadere a terra svenuto ma ben più grande fu il suo terrore quando lo spettro si tolse la benda che aveva intorno alla testa quasi facesse troppo caldo per tenerla addosso e la mascella inferiore gli ricadde sul petto Scrooge piombò in ginocchio e si nascose il viso nelle mani pietà gridò orrenda apparizione perché mi tormenti uomo di mente terrestre rispose il fantasma credi in me o no credo disse Scrooge devo credere ma come mai gli spiriti camminano sulla terra e come mai vengono a farmi visita è obbligo di ogni uomo il fantasma rispose che lo spirito che sta dentro di lui debba camminando in mezzo agli uomini sui simili andare lontano ma se lo lo fa in vita sarà condannato a farlo dopo morto esso è destinato a vagare per il mondo mi è sciagurato a essere testimone di cose a cui non può più prendere parte cose che in vita avrebbe potuto dividere con gli altri cavando nella sua felicità di nuovo lo spettro emise un grido scosse le sue catene e si torse le mani d'ombra sei incatenato notò Scrooge tremando dimmi perché porto la catena che mi sono forgiata in vita rispose il fantasma l'ho saldata anello per anello metro per metro me la sono caricata di mia spontanea volontà e di mia spontanea volontà la porto il suo modello ti sembra strano? Scrooge tremava sempre di più o vorresti sapere proseguì il fantasma il peso e la lunghezza della catena che tu stesso porti sette natalior solo era pesante e lunga come questa e da allora tu ci hai lavorato intorno parecchio è una catena pesantissima Scrooge gettò uno sguardo al pavimento circostante quasi si aspettasse di trovarsi circondato da cinquanta o sessanta metri di oltremondano cavo di ferro ma non vide nulla Jacob supplicò mio vecchio Jacob Marley parlami ancora dimmi qualche parola di conforto Jacob non mi è possibile rispose il fantasma le consolazioni vengono da altra parte Ebenezer Scrooge vengono da altri intermediari e vanno a uomini di altra specie e nemmeno posso dirti quello che vorrei è ben poco quello che ho ancora il permesso di dirti non posso riposare non posso fermarmi non posso indugiare in alcun luogo il mio spirito non si è mai allontanato dal nostro ufficio mai in vita mia il mio spirito si è spinto oltre gli stretti limiti del nostro minuscolo banco di cambio e ora un faticoso viaggio mi attende era abitudine di Scrooge ogni qual volta si sentiva preoccupato di mettere le mani nelle tasche dei pantaloni meditando su quanto il fantasma gli aveva detto fece quel gesto anche allora ma senza alzare gli occhi e continuando a stare inginocchiato devi aver preso la faccenda con molta calma Jacob osservò Scrooge in tono pratico anche se umile e deferente con calma ripete il fantasma sei morto già da sette anni riflette Scrooge e sei viaggiato per tutto questo tempo per tutto questo tempo disse il fantasma né pace né riposo mai ma l'incessante tortura del rimorso ti sposti rapidamente chiese Scrooge sulle ali del vento rispose il fantasma dovresti aver quindi percorso una bella distanza in sette anni notò Scrooge a queste parole il fantasma lanciò un altro grido e scosse le sue catene con strepito così orribile nel morto silenzio della notte che la polizia avrebbe avuto mille e una ragione di denunciarlo come disturbatore oh prigioniero legato a doppia catena gridò il fantasma per non aver saputo che occorrerebbero secoli di incessante travaglio da parte di immortali creature per far sì che questa terra abbia l'eterno premio se prima tutto il bene di cui il mondo è capace non è stato sviluppato per non aver saputo che ogni spirito cristiano il quale operi con bontà nella sua piccola sfera qualunque essa sia troverà la sua vita terrena troppo corta per le immense possibilità che gli sono offerte per non aver saputo che nessun rimorso può più far ammenda per le opportunità trascurate in vita ecco che cosa ho fatto ecco che cosa ho fatto eppure sei sempre stato un buon uomo d'affari Jacob balbettò Scrooge che cominciava ad applicare a se stesso quei discorsi gli affari gridò il fantasma torcendosi di nuovo le mani l'umanità avrebbe dovuto essere il mio affare il benessere generale avrebbe dovuto essere il mio affare carità clemenza pazienza e benevolenza tutto questo avrebbero dovuto essere i miei affari i miei commerci non erano che una goccia d'acqua in quell'oceano di affari levò in alto a lunghezza di braccio le sue catene come se fossero la causa dei suoi sterili rimpianti poi le ributtò pesantemente a terra in questo periodo dell'anno che volge al suo termine disse lo spettro io soffro ancora di più perché ho camminato tra la folla dei miei simili con gli occhi rivolti a terra senza mai alzarli su quella stella benedetta che condusse i maggio a una capanna non c'erano forse altre povere case verso cui la sua luce avrebbe potuto guidarmi Scrooge spaventato nell'udire lo spettro seguitare a quel modo cominciò a tremare come una foglia ascoltami gridò il fantasma il mio tempo è quasi trascorso ti ascolto disse Scrooge ma non essere tanto duro con me non fare della retorica Jacob ti prego per quale mistero io ti appaio oggi in una forma che tu puoi vedere non lo so ti sono rimasto accanto invisibile molti e molti giorni non era un'idea piacevole Scrooge era brividì e si asciugò il sudore della fronte questa non è la minore delle mie penitenze proseguì il fantasma sono qui stasera per avvertirti che hai ancora una possibilità e una speranza di sfuggire al mio stesso destino una possibilità e una speranza che ti ho procurato io e Benizer sei sempre stato un buon amico per me disse Scrooge te ne ringrazio tu sarai visitato riprese il fantasma da tre spiriti la faccia di Scrooge cadde tanto in basso quasi quanto quella del fantasma questa sarebbe l'opportunità e la speranza che mi hai promesso Geko domandò Scrooge con voce incerta sì è questa ne ne farei volentieri a meno fece Scrooge senza la loro visita disse il fantasma non avresti speranza di evitare il calvario che io stesso ho percorso aspetta il primo spirito domani quando le campane batteranno l'una non potrei riceverli tutti e tre insieme e farla finita Gekob suggeri Scrooge il secondo verrà la notte seguente la medesima ora il terzo la notte seguente ancora quando l'ultimo tocco delle dodici cesserà di vibrare non aspettarti di rivedermi ma per il tuo bene ricordati di ciò che è avvenuto fra noi dette queste parole lo spettro prese il suo fazzoletto dal tavolo e se lo avvolse al capo come prima Scrooge lo capì dal suono particolare che fecero i denti quando le mascelle vennero nuovamente a contatto si arrischiò ad alziare gli occhi di nuovo e vide il suo visitatore ultraterreno che lo squadrava diritto la catena avvolta intorno a un braccio lo spettro si allontanò da lui camminando all'indietro e a ogni passo che faceva la finestra si socchiudeva un poco così che quando la raggiunse era completamente aperta lo spettro fece cenno a Scrooge che si avvicinasse e quello ubbidì quando furono a due passi l'uno dall'altro il fantasma di Marley alzò una mano per avvertirlo di non avvicinarsi oltre Scrooge si fermò non tanto per obbedienza quanto per la sorpresa e il timore a levarsi di quella mano infatti si era reso conto di rumori confusi che riempivano l'aria suoni incoerenti di lamento e di tristezza gemiti di indicibili dolori e di rimpianto dopo aver ascoltato un momento lo spettro si unì al mesto coro poi scomparve nella notte livida il nera Scrooge corse alla finestra e ansante di curiosità guardò fuori l'aria era piena di fantasmi che vagavano con un disperato affanno gemendo ognuno portava catene come il fantasma di Marley alcuni forse si trattava di ministri traditori erano legati insieme nessuno era libero Scrooge ne aveva conosciuti parecchi da vivi era stato per esempio in stretta familiarità con un vecchio fantasma che indossava un panciotto bianco e che portava una colossale cassaforte di ferro attaccata alla caviglia egli piangeva pietosamente perché non era in grado di portare soccorso a una disgraziata donna con un bambino in braccio che egli vedeva giù sui gradini di una porta la ragione della pena di tutti quei fantasmi era evidente tentavano di intervenire a fin di bene negli affari terreni ma i loro sforzi erano destinati a un eterno insuccesso se queste creature svanirono nella nebbia o se la nebbia le circondò Scrooge non lo pote dire certo è che spiriti e voci svanirono insieme e la notte tornò a essere qual era quando egli era tornato a casa chiuse la finestra ed esaminò la porta per la quale il fantasma era entrato era chiusa a doppia mandata come egli l'aveva chiusa di sua mano e i chiavistelli erano al loro posto provò a dire sciocchezze ma si fermò sulla prima sillaba sia per le emozioni subite sia per le fatiche della giornata sia per quelle occhiate sul mondo invisibile sia per la tetra conversazione avuta col fantasma o per l'ora tarda sentì un grande bisogno di riposo andò quindi diritto a letto senza nemmeno spogliarsi e subito si addormentò e subito Grazie a tutti.